Io credo che lui si sia posto in maniera cosciente nei confronti di un tema esistente, un tema peraltro che non ha sollevato lui per primo. Oggi fa scandalo che lo sollevi lui, che è un uomo che appartiene alla stessa classe politica del soggetto recettore della sua critica. Ma il sindaco d'Arezzo è da tempo che parla di liste di attesa, che parla di servizi, che parla di problemi strutturali del San Donato, che parla di problemi sul personale. Oggi lo dicono anche medici che non appartengono alla mia area politica. Cosa vuol dire questo? Che il problema c'è. Non è una finta, il problema c'è. Il dottor Desideri si è un po' giocato la sua credibilità, promettendo a più riprese che non ci sarebbero stati tagli su Arezzo per produrre un miglioramento nelle altre città di area vasta sulle quali ci sono oggi dei peggiori servizi di quanto non ci siano ad Arezzo. e quindi mettendo risorse lì ed evitando di metterla lì, ma senza tagliare nulla ad Arezzo. Si è giocato una credibilità vera e seria. Io ora voglio vedere i numeri. Cioè finora abbiamo parlato sulle sensazioni, il dottor Ragli ha parlato sulla sua esperienza. E adesso gli chiederemo i numeri. Ci fai vedere le assunzioni degli ultimi sei anni e vediamo se hanno il trend che io mi aspetto oppure no. Però voglio vedere le mie, voglio vedere quelle di Siena, voglio vedere quelle di Grosseto e voglio vedere il cambiamento. Una cosa devo dirla, io non mi diverto a far polemica, mi diverto a affrontare i problemi per risolverli. Se li risolvo sono bravo, se non li risolvo sono un Somaro, lo dico. E questo vale per tutti però, attenzione, le patenti di Somaro sono pronte, basta metterci una firma sopra. Non è possibile che si continui a voler gestire la sanità nel sud della Toscana con lo schema che oggi è vigente. Questa riforma purtroppo è ormai quasi un anno e mezzo che è stata varata, non ha ancora prodotto i cambiamenti organizzativi che erano stati promessi. E badate bene che si era parlato di cambiamenti organizzativi che avrebbero portato a un risparmio di risorsa, che poi sarebbe stata investita nei confronti di quei territori che ne avevamo più bisogno. Ci sono tanti indicatori che possono essere presi come rappresentativi del benessere clinico o del benessere sociale. Tra quello clinico c'è la durata media della vita. Ci sono situazioni nelle quali la durata media della vita è più bassa che non altrove. È corretto, è giusto, è sacrosanto ed è umano ed è etico aumentare la risorsa in quei luoghi, senza però toglierla altrove. Questo è il gioco sul quale qualcuno ci si è giocato la credibilità. Ora andiamo a fare i conti, visto che anche qualcun altro ha sollevato il problema, facciamo i conti e vediamo se è vero o no.